Prima sezione della vita nuova di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mary J. La vita nuova di Dante Alighieri. Dal capitolo 1 a capitolo 7. 1. In quella parte del libro della mia memoria, denanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice, Incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento da esemplare in questo libello. E se non tutte, almeno la loro sentenza. 2. Nove fiate già appreso lo mio nascimento e ritornato allo cielo della luce, quasi ad uno medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando alle mie occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, i quali non sapevano che si chiamare. 3. Ella era in questa vita già stato tanto che, nello suo tempo, lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nonno apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nonno. 4. Apparve vestita di nobelissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che, alla sua giovanissima età, si convenia. 5. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparìa negli minimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole, 5. Ece Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. 6. In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e, parlando spezialmente agli spiriti del viso, sì disse queste parole. 7. Apparuit iam beatitudo vestra. 8. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole. 8. Eo miser, quia frequenter, impeditus ero de inceps. 9. D'allora, inanzi, dico che amore, signoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tante sicurtade e tanta signoria, per la virtù che gli dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. 10. Egli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima, onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vedea la di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero. Ella non parea figliola d'uomo mortale, ma di Deo. 11. E avvenia che la sua immagine, la quale continuamente me costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me. Tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse che amore mi reggesse, senza lo fedele consiglio della ragione, in quelle cose là ove con tale consiglio fosse utile a udire. E però che sopprestare alle passioni e atti di tanta gioventudine, pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse, e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre dell'esempio onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi. 3. Poiché furono passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni, appreso l'apparimento sopprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di queste die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di color bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga età. E passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ovvio, ero molto pauroso. E per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutòe, molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti gli termini della bianchitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quello giorno. E però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire alle mie orecchi, presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partìo dalle genti, e ricorsi allo solingo luogo d'una mia camera, e possimi a pensare di questa cortesissima. E pensando di lei mi sopraggiunse uno soave sonno, nello quale mi apparve una maravigliosa visione, che me parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse. E parea mi contante letizia quanto a sé, che mirabile cosa era, e nelle sue parole dice molte cose, le quali io non intendea se non poche, tra le quali intendea queste. Ego dominus tuus. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che in volta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente, la quale io riguardando molto intentivamente Canobi che era la donna della salute, la quale mi avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa, la quale ardesse tutta. E parea mi che mi dicesse queste parole, Vide cor tuum. E quando elli era stato alquanto, parea mi che disvegliasse questa che dormia. E tanto si sforzava per suo ingegno che la facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò, poco dimorava che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto. E così piangendo, si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che si inigisse verso lo cielo, onde io sostenea si grande angoscia, che lo mio deboletto sono non poteo sostenere, anzi si ruppe, e fui disvegliato. E mantenente cominciai a pensare, e trovai che l'ora nella quale mi era questa visione apparita era la quarta della notte stata, sì che appare manifestamente che ella fue la prima ora delle nove ultime ore della notte. Pensando io a ciò che mi era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti, li quali erano famosi trovatori in quello tempo, e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, propuosi di fare uno soneto, nello quale io salutasse tutti gli fedeli d'amore. E pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo soneto, la quale comincia a ciascun'alma presa. A ciascun'alma presa e gentil core, nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi riscrivan suo perdente, salute al lor signor, cioè amore. Già erano quasi che a terzate l'ore, del tempo che onne stelle nelucente, quando ma parve amor subitamente, cui assenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor tenendo mio core in mano, e nelle braccia avea madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava. Ed estu core ardendo, lei paventosa, umilmente, pascea, a presso gir lo ne vedea piangendo. Questo soneto si divide in due parti, che la prima parte saluto e domando risponsione. Nella seconda significò a che si deve rispondere. La seconda parte comincia qui vi, già erano. A questo soneto fu risposto da molti di diverse sentenzie, tra le quali fu risponditore quelli cui io chiamo primo degli miei amici, e disse allora uno soneto, lo quale comincia. Vedesti al mio parere onne valore. E questo fu quasi lo principio dell'amistà tra lui e me, quando egli seppe che io era quelli che lì avea ciò mandato. Lo verace giudicio del detto sogno non fu veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo agli più semplici. Quattro. Da questa visione innanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione, però che l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima, onde io divenni in piccolo tempo, poi di sì fraile e debole condizione, che a molti amici pesava della mia vista, e molti pieni d'invidia già si procacciavano di sapere di me quello che io volea del tutto celare ad altrui. Ed io, accorgendomi dal malvagio domandare che mi facevano per la volontà di amore lo quale mi comandava secondo lo consiglio della regione. Rispondea loro che amore era quelli che così mi aveva governato. Dicea d'amore, però, che io portava nel viso tante delle sue insegne, che questo non si poteva ricoprire. E quando mi domandavano per cui t'ha così distrutto questo amore? Ed io, sorridendo, li guardava e nulla dicea loro. Cinque. Un giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove si udiano parole della regina della gloria, ed io ero in luogo dal quale vedea la mia beatitudine. E nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi dal mio sguardare che parea che sopra lei terminasse, onde molti si accorsero dello suo mirare, ed intanto vi fue posto mente, che, partendomi da questo luogo, mi sentío dicere appresso di me, vedi come co' tale donna distrugge la persona di costui. E, nominandola, e ho intesi che dicea di collè che mezzo era stata nella linea retta che movea dalla gentilissima Beatrice e terminava negli occhi miei. Allora mi convertai molto, assicurandomi che lo mio segreto non era comunicato lo giorno altrui per la mia vista, e mantenente pensai di fare di questa gentile donna schermo della verità e tanto ne mostrai in poco tempo che lo mio segreto fu creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano. Con questa donna mi ce l'ai al quanti anni e mesi e per più fare credente altrui feci per lei certe cosette per rima le quali non è mio intendimento di scrivere qui, se non in quanto facesse a trattare di quella gentilissima Beatrice e però le lascerò tutte salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia loda di lei. Sei dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore quanto dalla mia parte sì mi venne una volontà di volere ricordare lo nome di questa gentilissima ed accompagnarlo di molti nomi di donne e specialmente nel nome di questa gentile donna e presi i nomi di sessanta le più belle donne delle città dove la mia donna fu posta dall'altissimo sire e compuosi una pistola sotto forma di serventese la quale io non scriverò e non avrei fatto menzione se non per dire quello che componendola maravigliosamente adivenne cioè che in alcun altro numero non soffersi lo nome della mia donna stare se non in solo nove tra i nomi di queste donne 7 la donna con la quale io aveva tanto tempo cellata la mia volontà convene che si partisse dalla sopredetta città e andasse in paese molto lontano perché io quasi sbigottito della bella difesa che mi era venuta meno assai me ne disconfortai più che io medesimo non avrei creduto dinanzi e pensando che se della sua partita io non parlasse alquanto dolorosamente le persone sarebbero accorte piuttosto dello mio nascondere propuosi di farne alcuna lamentanza in uno sonetto lo quale io scriverò a ciò che la mia donna fu emediata cagione di certe parole che nello sonetto sono siccome appare a chi lo intende e allora dissi questo sonetto che comincia o voi che per la via o voi che per la via d'amor passate attendete e guardate se li è dolore alcun quanto il mio grave e prego sol che o dir mi soffriate e poi immaginate se io son d'ogni tormento ostale e chiave amor non già per mia poca bontate ma per sua nobiltate mi pose in vita si dolce e soave che io mi sentia dir dietro spesse fiate deo per qual dignitate così leggiadro questi lo core ave oro perduta tutta mia baldanza che si muovea d'amoroso tesoro un dio pover di moro inguisa che di dir mi vendot danza sì che volendo far come coloro che per vergogna c'è l'anor mancanza di formostro alla granza e dentro dallo core strugo e ploro questo sonetto ha due parti principali che nella prima intendo chiamare li fideli d'amore per quelle parole di geramia profette che dicono o vos omnes qui transitis per via attendite e vedite si es dolor sic dolor meus e pregare che mi sofferino dal dire nella seconda narro là ove amore mi avea posto con altro intendimento che le estreme parti del sonetto non mostrano e dico che io ho e ciò perduto la seconda parte comincia quivi amor non già fine della prima sezione sezione seconda della vita nuova di dante leghieri questa registrazione librivox e di pubblico dominio dal capitolo 8 al capitolo 12 8 appresso lo partire di questa gentile donna fu piacere del signore degli angeli di chiamare alla sua gloria una donna giovane e di gentile aspetto molto la quale fu assai graziosa in questa sopradetta citare lo cui corpo io vidi giacere senza l'anima in mezzo di molte donne le quale piangeano assai pietosamente allora ricordandomi che già l'avea veduta fare compagnia a quella gentilissima non poteo sostenere alcquante lagrime anzi piangendomi propuosi di dicere alcquante parole della sua morte in guiderone di ciò che alcuna fiata l'avea veduta con la mia donna e di ciò toccai alcuna cosa nell'ultima parte delle parole che io ne dissi sì come appare manifestamente a chi lo intende e dissi allora questi due sonetti li quali comincia lo primo piangete amanti e lo secondo morte vilana piangete amanti poiché piange amore udendo qualca gion lui fa plorare amor sente a pietà donne chiamare mostrando amaro duo pe li occhi fore perché vilana morte in gentil core ha miso su crudele adoperare guastando ciò che al mondo è da laudare in gentil donna sovra dell'onore audite quanto amore le fece oranza che il vidi lamentare in forma vera sovra la morta immagine avvenente e riguardava verlo ciel sovente ove l'alma gentil già locata era che donna fu di si gaia sembianza questo primo sonetto si divide in tre parti nella prima chiamo e solicito li fedeli d'amore a piangere e dico che lo signore loro piange e dico udendo la cagione perché piange a ciò che sacconcino più ad ascoltarmi nella seconda narro la cagione nella terza parlo d'alcuno orrore che amore fece a questa donna la seconda parte comincia quivi amor sente la terza quivi audite morte vilana di pietà nemica di dolor madre antica giudicio incontastabile gravoso poiché hai dato matera o cordoglioso onde io vado pensoso di te blasmar la lingua sa fatica e s'io di grazia ti vuoi far mendica convene sì che o dica lo tu fallar donni torto tortoso non però ca la gente sia nascoso ma per farne crucioso chi d'amor per innanzi si notrica dal secolo è partita cortesia e ciò che è donna da pregiar verdute in gaia gioventute distrutta hai l'amorosa legiadria più non vuoi discovrir qual donna sia che per le proprietà sue conosciute chi non merta salute non speri mai d'aver sua compagnia questo sonetto si divide in quattro parti nella prima parte chiamo la morte per certi suoi nomi propri nella seconda parlando a lei dico la cagione perché io mi muovo a abiasmarla nella terza la vitupero nella quarta mi volgo a parlare ad indefinita persona avenia che quanto allo mio intendimento sia definita la seconda comincia quivi poi chi è data la terza quivi e si di grazia la quarta quivi chi non merta salute nove appreso la morte di questa donna o quanti die avenne cosa per la quale mi convenne partire dalla sopredetta cittade e irre verso quelle parti dove era la gentile donna che era stata difesa avenia che non tanto fosse lontano lo termine dello mio andare quanto ella era e tutto ch'io fosse alla compagnia di molti quanto alla vista l'andare mi dispiacea sì che quasi li sospiri non poteano disfogare l'angoscia che lo cuore sentia però ch'io mi dilungava dalla mia beatitudine e però lo docissimo signore lo quale mi signoreggiava per la virtù della gentilissima donna nella mia immaginazione apparve come peregrino leggeramente vestito e di villi drapi elli mi parea disbigotito e guardava la terra salvo che talora li suoi occhi mi parea che si volgessero ad uno fiume bello e corrente e chiarissimo lo quale sen già lungo questo cammino la ovvio era a me parve che amore mi chiamasse e dicessemi queste parole io venio da quella donna la quale è stata tua lunga difesa e so che lo suo rivenire non sarà a gran tempi e però quello cuore che io ti face avere a lei io lo meco e portolo a donna la quale sarà tua difensione come questa era e nominolami per nome sì che io la canobi bene ma tuttavia di queste parole che io ti ho già ragionate se alcuna cosa ne dicessi dille nel modo che per loro non si discernesse lo simulato amore che tu hai mostrato a questa e che ti converrà mostrare ad altri e dette queste parole disparve questa mia immaginazione tutta subitamente per la grandissima parte che mi parve che amore mi desse di sé e quasi cambiato nella vista mia cavalcai quel giorno pensoso molto ed accompagnato da molti sospiri appresso lo giorno cominciai di ciò questo soneto lo quale comincia cavalcando cavalcando l'aldriere per un cammino pensoso per l'andar che mi sgradia trovai amore in mezzo della via in abito legger di peregrino nella sembianza mi parea meschino come avesse perduta signoria e sospirando pensoso venia per non vedere la gente a capo chino quando mi vide mi chiamò per nome e disse io venio di lontana parte ovvero lo tuo cor per mio volere e recolo a servire nuovo piacere allora presi di lui si gran parte che li disparve e non ma cor si come questo sonetto ha tre parti nella prima parte dico sì come io trovai amore e quale mi parea nella seconda dico quello che li mi disse avvenia che non compiuta mente per tema che vea di scoprire lo mio segreto nella terza dico come li mi disparve la seconda comincia quivi quando mi vide la terza allora presi dieci appresso la mia ritornata mi misi a cercare di questa donna che lo mio signore mi aveva nominato nello cammino degli sospiri e a ciò che lo mio parlare sia più breve dico che in poco tempo la feci mia difesa tanto che troppa gente ne ragionava oltre i termini della cortesia onde molte fiate mi pesava duramente e per questa cagione cioè di questa soverchievole voce che parea che mi infamasse viziosamente quella gentilissima la quale fu distrugiatrice di tutti gli vizi e regina delle virtudi passando per alcuna parte mi negò lo suo dolcissimo salutare nello quale stava tutta la mia beatitudine ed uscendo a quanto del proposito presente voglio dare a intendere quello che lo suo salutare in me virtuosamente operava undici dico che quando ella apparìa da parte alcuna per la speranza dell'ammirabile salute nullo nemico mi rimanea anzi mi giugnea una fiamme di carità la quale mi facea perdonare a chiunque m'avesse offeso e chi allora m'avesse domandato di cosa alcuna la mia risponsione sarebbe stata solamente amore con viso vestito d'umiltà e quando ella fosse a quanto propinco al salutare uno spirito d'amore distruggendo tutti gli altri spiriti sensitivi pingea fuori gli deboletti spiriti del viso e dicea loro andate a onorare la donna vostra ed elli si rimanea nel luogo loro e chi a avesse voluto conoscere amore fare lo potea mirando lo tremare degli occhi miei e quando questa gentilissima salute salutava non che amore fosse tal mezzo che potesse obumbrare a me la intollerabile beatitudine ma elli quasi per soverchio di dolcezza divenia tale che lo mio corpo lo quale era tutto allora sotto lo suo reggimento molte volte si muovea come cosa grave inanimata sì che appare manifestamente che nelle sue salute abitava la mia beatitudine la quale molte volte passava e ridundava la mia capacità ora tornando a proposito dico che poi la mia beatitudine mi fu negata mi giunse tanto dolore che partito dalle genti in solinga parte andai a bagnare la terra da marissime lagrime e poi che alquanto mi fu solennato questo lagrimare misimi nella mia camera la ovvio potei lamentarmi senza essere udito e quivi chiamando misericordia alla donna della cortesia e dicendo amore aiuta lo tuo fedele ma dormentai come uno pargoletto battuto lagrimando avvenne quasi nel mezzo dello mio dormire che me parve vedere nella mia camera lungo me sedere bianchissime vestimenta e pensando molto quanto alla vista sua vi riguardava là ovvio giacea e quando m'avea guardato alquanto pareami che sospirando mi chiamasse e diceami queste parole fili mi tempus est ut prater mink tantur simulacra nostra allora mi parea che io lo conoscesse però che mi chiamava così come assai fiate nelle miei sogni mi avea già chiamato e riguardandolo parvemi che piangesse pietosamente e parea che attendesse da me alcuna parola ond'io assicurandomi cominciai a parlare così con esso signore della nobiltade e perché piangi tu e quelle mi dicea queste parole e ego tanquam centrum circuli cui simili modo se abent circonferentiae partes tu autum non sic allora pensando alle sue parole mi parea che mi avesse parlato molto oscuramente sic io mi sforzava di parlare e dice ali queste parole che è ciò signore che mi parli con tanta scuritade e quelli mi dicean parole vogari non dimandare più che utile ti sia e però cominciai allora con lui a ragionare della salute la quale mi fu negata e domandai lo della cagione onde in questa guisa da lui mi fu risposto quella nostra Beatrice udio da certe persone di te ragionando che la cammino degli sospiri ricevea da te alcuna noia e però questa gentilissima la quale contraria di tutte le noie non degnò salutare la tua persona temendo non fosse noiosa onde conciò sia cosa che veracemente sia conosciuto per lei alquanto lo tuo segreto per lunga consuetudine voglio che tu dichi certe parole per rima nelle quali tu comprendi la forza che io tengo sopra te per lei e come tu fosti suo tostamente dalla tua puerizia e di ciò chiama testimonio colui che lo sa e come tu prieghi lui che li le dica ed io che sono quelli volentieri le ne ragionerò e per questo sentirà ella la tua volontade la quale sentendo conoscerà le parole degli ingannati queste parole fa che siano quasi un mezzo sì che tu non parli a lei immediatamente che non è degno e non le mandare in parte senza me ove potessero essere intese da lei ma falle adornare di soave armonia nella quale io sarò tutte le volte che farà mestiere e dette queste parole si disparve e lo mio sonno fu erotto onde io ricordandomi trovai che questa visione mi era apparita nella nonna ora del die e anzi che io uscisse di questa camera proposi di fare una ballata nella quale io seguitasse ciò che lo mio signore mi avea imposto e feci poi questa ballata che comincia ballata io ballata io vo che tu ritrovi amore e con lui vada a madonna davante sì che la scusa mia la qual tu cante ragioni poi con lei lo mio signore tu vai ballata sì cortesamente che senza compagnia dovresti avere in tutte parti ardire ma se tu vuoli andar sicuramente ritrova l'amor pria che forse non è bon senza lui gire però che quella che ti dè a dire sì come io credo è ver di me adirata se tu di lui non fossi accompagnata leggeramente ti faria disnore con condozze sono quando se con lui comincia este parole appreso che avrei chiesta pietate madonna quelli che mi manda a voi quando vi piaccia vole sed li a scusa che la mi intendiate amore è qui che per vostra abiltate lo facce come voi viste cangiare dunque perché li fece altra guardare pensate voi da che non mutò il core dille madonna lo suo core è stato così fermata fede che in voi servir l'ha un pronto onne pensero tosto fu vostro e mai non s'è smagato sed ella non ti crede di che domandi amor che salo vero ed alla fine fale un mio preghiero lo perdonare se le fosse annoia che mi comandi permesso che o moia e vedrassi obbedir ben servidore e dia colui che d'ogni pietà chiave avanti che sdonei che lei saprà contare mia ragion buona per grazie della mia nota soave riman tu qui con lei ed al tuo servo ciò che vuoi ragiona e se la pel tuo prego li perdona fa che gli annunzi un bel sembiante pace gentil ballata mia quando ti piace muovi in quel punto che tu nagie onore questa ballata in tre parti si divide nella prima dico a lei ove la vada e confortola però che vada più sicura e dico nella cui compagnia si metta se vuole sicuramente andare e senza pericolo alcuno nella seconda dico quello che lei si pertiene di fare intendere nella terza la l'incenzio del gire quando vuole raccomandando lo suo movimento nelle braccia della fortuna la seconda parte comincia quivi con dolce sono la terza quivi gentil ballata potrebbe già l'uomo appore contra me a dicere che non sapesse a cui fosse lo mio parlare in seconda persona però che la ballata non è altro che queste parole che io parlo e però dico che questo dubbio io lo intendo solvere e dichiarare in questo libello ancora in parte più dubbiosa e allora intendo qui chi qui dubita o chi qui volesse apporre in questo modo fine della seconda sezione terza sezione della vita nuova di dante leghieri dal capitolo 13 al capitolo 16 questa registrazione librivox è di pubblico dominio 13 appresso di questa soprascritta visione avendo già dette le parole che amore mi aveva imposte a dire mi cominciarono molti e diversi pensamenti a combattere ed a tentare ciascuno quasi indifensibilmente tra di quali pensamenti quattro mi parea che ingombrassero più lo riposo della vita l'uno degli quali era questo buona è la signoria d'amore però che trae lo intendimento dal suo fedele da tutte le villi cose l'altro era questo non buona è la signoria d'amore però che quanto lo suo fedele più fede li porta tanto più gravi e dolorosi punti li conviene passare l'altro era questo lo nome d'amore è sì dolce ad udire che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce con ciò sia cosa che gli nomi seguitano le nominate cose sì come scritto nomina sunt consequentia rerum lo quarto era questo la donna per cui amore ti stringe così non è come l'altra donna che leggeramente si muove dal suo cuore e ciascuno mi combattea tanto che mi facea stare quasi come colui che non sa per qual via pigli lo suo cammino e che vuole andare e non sa onde se ne vada e se io pensava di volere cercare una comune via di costoro cioè là dove tutti si accordassero questa era via molto inimica verso me cioè di chiamare e di mettermi nelle braccia della pietà e in questo stato dimorando mi giunse volontade di scriverne parole rimate e dissine allora questo sonetto lo quale comincia tutti li miei pensier tutti li miei pensier parlano d'amore e hanno in loro sì gran varietate ch'altro mi fa voler sua potestate altro folle ragione al suo valore altro sperando ma porta dolzore altro pianger mi fa spesse fiate e sol s'accordano in che rir pietate tremando di paura che e ne occorre onde io non so da qual materia prenda e vorrei dire e non so ch'io mi dica così mi trovo in amorosa e ranza e se con tutti vuoi far accordanza convenemi chiamar la mia nemica madonna la pietà che mi difenda questo sonetto in quattro parti si può dividere nella prima dico e sappongo che tutti li miei pensieri sono d'amore nella seconda dico che sono diversi e narro la loro diversità nella terza dico in che tutti pare che s'accordino nella quarta dico che volendo dire d'amore non so da qual parte pigli matera e se la voglio pigliare da tutti convene che io chiami la mia enemica madonna la pietade e dico madonna quasi per disdegnoso modo di parlare la seconda parte comincia quivi e hanno in loro la terza quivi e sol s'accordano la quarta quivi ond'io non so appreso la battaglia degli diversi pensieri avvenne che questa gentilissima venne in parte ove molte donne gentili erano adunate alla quarta parte io fui condotto per amica persona credendosi fare a me grande piacere in quanto mi menava la ove tante donne mostravano le loro bellezze onde io quasi non sapiendo a che io fossi menato e fidandomi nella persona la quale uno suo amico all'estremità della vita condotto a vea dissi a lui perché siamo noi venuti a queste donne allora quelli mi disse per fare sì che elli siano degnamente servite e lo vero è che adunate quivi erano alla compagnia di una gentile donna che di sposate era lo giorno e però secondo l'usanza della sopradetta citade convenia che le facessero compagnia nel primo sedere alla mensa che facea nella magione del suo novello sposo sì che io credendomi fare piacere di questo amico propuosi di stare al servizio delle donne nella sua compagnia e nel fine del mio proponimento mi parve sentire un mirabile tremore incominciare nel mio petto dalla sinistra parte e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura la quale circondava questa magione e temendo non altri si fosse accorto dal mio tramare levai gli occhi e mirando le donne vidi tra loro la gentilissima Beatrice allora furono sì distrutti gli miei spiriti per la forza che amore prese veggendosi in tanta propinquità alla gentilissima donna che non ne rimasero in vita più che gli spiriti del viso e ancora questi rimasero fuori dagli loro strumenti però che amore voleva stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna e avvenia che io fossi altro che prima molto midolea di questi spiritelli che si lamentavano forte e diceano se questi non ci infolgorasse così fuori dal nostro luogo noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna così come stanno gli altri nostri pari io dico che molte di queste donne accorgendosi della mia trasfigurazione si cominciarono a maravigliare e ragionando si gabavano di me con questa gentilissima onde l'ho ingannato amico di buona fede mi prese per la mano e traiendomi fuori dalla veduta di queste donne si mi domandò che io avesse allora io riposato alquanto e resurreciti gli morti spiriti miei e gli discacciati rivenuti alle loro possessioni dissi a questo mio amico queste parole io tenni li piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si puote ire più per intendimento di ritornare e partitomi da lui mi ritornai nella camera delle lagrime nella quale piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea se questa donna sapesse la mia condizione io non credo che così gabasse la mia persona anzi credo che molta pietade le ne verrebbe e in questo pianto stando propuosi di dire parole nelle quali parlando a lei significasse la cagione del mio trasfiguramento e dicesse che io so bene che ella non è saputa e che se fosse saputa io credo che pietà ne giungerebbe altrui e propuosi lei di dire desiderando che venissero per avventura nella sua audienza e allora dissi questo sonetto lo quale comincia con l'altre donne con l'altre donne mia vista gabate e non pensate donna onde si muova ch'io vi rassembri si figura nova quando riguardo la vostra beltate se lo saveste non puoi riapietate tenere piu contro me l'usata prova che amor quando si presso a voi mi trova prende baldanza e tante sicurtate che fere tra i miei spiriti paurosi e quale ancide e quo pinge di fore sì che solo rimane a veder vuoi ond'io mi cangio in figura d'altrui ma non si ch'io non senta bene all'ore li guai degli scacciati tormentosi questo sonetto non divido in parti perché la divisione non si fa se non per aprire la sentenza della cosa divisa onde con ciò sia cosa che per la sua ragionata cagione assai sia manifesto non ha mestiere di divisione vero è che tra le parole dove si manifesta la cagione di questo sonetto si scrivono dubbiose parole cioè quando dico che amore uccide tutti i miei spiriti e li visivi rimangono in vita salvo che fuori degli strumenti loro e questo dubbio è impossibile assolvere a chi non fosse in simile grado fedele d'amore ed a coloro che vi sono e manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole e però non è bene a me di dichiarare cotale dubitazione a ciò che lo mio parlare dichiarando sarebbe in d'arno ovvero di soperchio 15 appresso la nuova trasfigurazione mi giunse uno pensamento forte lo quale poco si partia da me anzi continuamente mi riprendea ed eri cotale ragionamento mecco poscia che tu perviene a così dischernevole vista quando tu sei presso di questa donna perché pur cerchi di vedere lei ecco che tu fossi domandato da lei che avresti da rispondere ponendo che tu avessi libera ciascuna tua vertude in quanto tu le rispondessi ed a costui rispondea un altro umile pensiero e dicea se io non perdessi le mie vertute e fossi libero tanto che io le potessi rispondere io le direi che si tosto come io immagino la sua mirabile bellezza si tosto mi giunge uno desiderio di vederla lo quale è di tante vertude che uccide e distrugge nella mia memoria ciò che contro lui si potesse levare e però non mi ritraggono le passate passioni da cercare la veduta di costei ond'io mosso da cotali pensamenti proposi di dire certe parole nelle quali escusandomi a lei da cotale riprensione ponesse anche di quello che mi diviene presso di lei e dissi questo sonetto lo quale comincia ciò che m'incontra ciò che m'incontra nella mente more quando io venio a veder voi bella gioia e quand'io vi son presso i sento amore che dice fuggi so perirte noia lo viso mostra lo color del core che tramortendo ovunque po' s'appoia e per la ebrietà del gran tremore le pietre par che gridin moia moia peccato facce chi allora mi vide se l'alma sbigottita non conforta so dimostrando che di me li dolia per la pietà che il vostro gabbo ancide la quale si cria nella vista morta degli occhi cano di lor morte voglia questo sonetto si divide in due parti nella prima dico la cagione perché non mi tengo di gire presso di questa donna nella seconda dico quello che mi diviene per andare presso di lei e comincia questa parte quivi e quando io vi son presso ed anche si divide questa seconda parte in cinque secondo cinque diverse narrazioni che nella prima dico quello che amore consigliato dalla ragione mi dice quando le sono presso nella seconda manifesto lo stato del cuore per esempio del viso nella terza dico sì come onne sicurtade mi viene meno nella quarta dico che pecca quelli che non mostra pietà di me a ciò che mi sarebbe alcuno conforto nell'ultima dico perché altri dovrebbe avere pietà e cioè per la pietosa vista che negli occhi mi giugne la quale vista pietosa è distrutta cioè non pare altrui per lo gabare di questa donna la quale trae a sua simile operazione coloro che forse vederebano questa pietà la seconda parte comincia quivi lo viso mostra la terza quivi e per la ebrietà la quarta peccato face la quinta per la pietà sedici appresso ciò che io dissi questo sonetto mi mosse una volontade di dire anche parole nelle quali io dicesse quattro cose ancora sopra lo mio stato le quali non mi parea che fossero manifestate ancora per me la prima delle quali si è che molte volte io mi dolea quando a mia memoria muovesse la fantasia ad immaginare quale amore mi facea la seconda si è che amore spesse volte di subito ma salìa si forte che a me non rimanea altro di vita se non un pensiero che parlava di questa donna la terza si è quando questa battaglia d'amore mi pugnava così io mi muovea quasi discolorito tutto per vedere questa donna credendo che mi difendesse la sua veduta da questa battaglia dimenticando quello che per apro pencuare a tanta gentilezza ma divenia la quarta si è come cotale veduta non solamente non mi difendea ma finalmente disconfiggea la mia poca vita e però dissi questo sonetto lo quale comincia spesse fiate spesse fiate vegnonmi alla mente le oscure qualità che amore mi dona e venne mi pietà si che sovente io dico lasso avviene lì a persona che amore mi assale subitanamente si che la vita quasi m'abbandona campami uno spirito vivo solamente e quei riman perché di voi ragiona poscia mi sforzo che mi voglio attare e così smorto donne valor voto venio a vedervi credendo guerire e se io levo gli occhi per guardare nel cor mi si comincia uno tremoto che fa dei polsi l'anima partire questo sonetto si divide in quattro parti secondo che quattro cose sono in esso narrate e però che sono di sopra ragionate non mi trametto se non di distinguere le parti per le loro cominciamenti onde dico che la seconda parte comincia quivi camor la terza quivi poscia mi sforzo la quarta quivi e se io levo fine della terza sezione quarta sezione della vita nuova di Dante Alighieri questa registrazione LibriVox e di pubblico dominio la vita nuova di Dante Alighieri dal capitolo 17 al capitolo 20 17 poiché dissi questi tre sonetti negli quali parlai a questa donna però che fuori narratori di tutto quasi lo mio stato credendomi tacere e non dire più però che mi parea di me assai avere manifestato avvenne che sempre poi tacesse di dire a lei a me convenne ripiugliare materia nuova e più nobile che la passata è però che la cagione della nuova materia è dilettevole ad udire la dicerò quanto potrò più brevemente 18 conciossi a cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo secreto do mio cuore certe donne le quali adunate eserono dilettandosi l'una nella compagnia dall'altra sapeano bene lo mio cuore però che ciascuna di loro era stata a molte mie sconfitte ed io passando appresso di loro siccome dalla fortuna menato fui chiamato da una di queste gentili donne la donna che mi avea chiamato era donna di molto leggero parlare sicché quando io fui giunto dinanzi da loro e vidi bene che la mia gentilissima donna non era con esse rassicurandomi le salutai e domandai che piacesse loro le donne erano molte tra le quali ne avea certe che si rideano tra loro altre verano che mi guardavano aspettando che io dovessi dire altre verano che parlavano tra loro delle quali una volgendoli suoi occhi verso me e chiamandomi per nome disse queste parole a che fine ami tu questa tua donna poiché tu non puoi sostenere la sua presenza dilloci che certo lo fine di quale amore conviene che sia novissimo e poi che me vedete queste parole non solamente ella ma tutte l'altre cominciarono ad attendere in vista la mia risponsione allora dissi queste parole loro madonne lo fine del mio amore fu già lo saluto di questa donna forse di cui voi intendete ed in quello dimorava la beatitudine che era fine di tutti i miei desideri ma poiché le piacque di negarlo a me lo mio signore amore la sua mercede ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno allora queste donne cominciarono a parlare tra loro e siccome talora vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve così mi pare udire le loro parole uscire mischiate di sospiri e poi che o quanto ebbero parlato tra loro anche mi disse questa donna che mi avea prima parlato queste parole noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sia questa tua beatitudine ed io rispondendo lei dissico tanto in quelle parole che lodano la donna mia allora mi ripuose questa che mi parlava se tu ne dicessi vero quelle parole che tu ne hai dette notificando la tua condizione avresti operato con altro intendimento onde io pensando a queste parole quasi vergognoso mi partio da loro e venia dicendo fra me medesimo poiché è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la è stato lo mio e però propuosi di prendere per materia dello mio parlare sempre mai quello che fosse l'odo di questa gentilissima e pensando molto a ciò parei a mia vera impresa troppo alta materia quanto a me sì che non ardia di cominciare e così dimorai alquanti di con desiderio di dire e con paura di cominciare diciannove avvenne poiché passando per un cammino lungo lo quale sen già un rivo chiaro molto a me giunse tanta volontà di dire che io cominciai a pensare lo modo che io tenesse e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine amore queste parole io ripuosi nella mente con grande letizia pensando di prenderle per mio cominciamento onde poi ritornato alla sopradetta cittade pensando a quanti die cominciai una canzone con questo cominciamento ordinata nel modo che si vedrà di sotto nella sua divisione la canzone comincia donne cavette donne cavette intelletto d'amore io vo con voi della mia donna dire non per ch'io definire ma ragionare per risvolgar la mente io dico che pensando il suo valore amore si dolce mi si fa sentire che se io allora non perdessi a dire farei parlando innamorare la gente e io non vo parlarsi altamente ch'io divenisse per temenza vile ma tratterò dal suo stato gentile a rispetto di lei leggeramente donne e donzele amorose con voi che non è cosa da parlarne altrui angelo clama in divino intelletto e dice sire nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede d'un'anima che infine quassù risplende lo cielo che non ave altro difetto che dover lei al suo signor la chiede e ciascun santo ne grida mercede sola pietà nostra parte difende che parla dio che di madonna intende diletti miei or sofferite in pace che vostra spene sia quanto mi piace là ov'è alcun che perder lei si attende e che dirà nello inferno o malnati io vidi la speranza dei beati madonna è disiata in sommo cielo or voi di sua virtù farvi savere dico qual vuol gentil donna parere vada con lei che quando va per via gita nei cor vilani amore un gelo perché on è lor pensiero a ghiaccia e pere e qual soffrisse di starla a vedere diverria nobil cosa o si morria e quando trova alcun che degno sia di veder lei que prova sua vertute che li avvien ciò che li donna salute e si l'umilia con ogni offesa oblia ancora l'addio per maggior grazia dato che non può mal finir chi l'ha parlato dice di lei amor cosa mortale come ser po' si adorna e si pura poi la riguarda e fra se stesso giura che dio intenda di far cosa nova color di perle ha quasi in forma quale convenne a donna aver non for misura ella è quanto de ben po far natura per esempio di lei bialtà si prova degli occhi suoi come che la li muova escono spiriti d'amore inflammati che ferron gli occhi a qualche allor laguati e passan sì che il cor ciascun ritrova voi le vedete amor pinto nel viso lave non potei alcun mirarla fiso canzone io so che tu girai parlando a donne assai quando io t'avrò avanzata or t'amonisco per ch'io t'ho allevata per figliola d'amore giovane e piana che là ove giugni tu dichi pregando insegnatemi gir ch'io son mandata a quella di cui laude so adornata e se non vuoli andare insegnati se puoi d'esser pallese solo con donne o con omo cortese che timirranno là per via tostana tu troverai amor con esso lei raccomandami a lui come tu dei questa canzone a ciò che sia meglio intesa la dividerò più artificiosamente che l'altra cosa di sopra e però prima ne fa tre parti la prima parte è proemio delle seguenti parole la seconda è lo intento trattato la terza è quasi una serviziale delle precedenti parole la seconda comincia qui vi angelo clama la terza qui vi canzone io so che la parte prima si divide in quattro nella prima dico a cui io dicer voglio della mia donna e perché io voglio dire nella seconda dico quale mi pare avere a me stesso quando io penso lo suo valore e com' mio direi s'io non perdessi l'ardimento nella terza dico come credo dire di lei a ciò ch'io non sia impedito da viltà nella quarta ridicendo anche a cui ne intenda dire dico la cagione perché dico a loro la seconda comincia quivi io dico la terza quivi e io non voglio parlare la quarta donne e donzele poscia quando dico angelo clama e dividesi questa parte in due nella prima dico che di lei si comprende in cielo nella seconda dico che di lei si comprende in terra quivi madonna ed isiata questa seconda parte si divide in due che nella prima dico di lei quanto dalla parte della nobiltà della sua anima narrando alquanto delle sue virtùdi effettive che della sua anima procedeano nella seconda dico di lei quanto dalla parte della nobiltà del suo corpo narrando alquanto delle sue bellezze quivi dice di lei amor questa seconda parte si divide in due che nella prima dico da quante bellezze che sono secondo tutta la persona nella seconda dico da quante bellezze che sono secondo determinata parte della persona quivi degli occhi suoi questa seconda parte si divide in due che nell'una dico degli occhi li quali sono principio d'amore nella seconda dico della bocca la quale è fine d'amore e a ciò che quinci si lievi ogni vizioso pensiero ricordisi chi ci legge che di sopra è scritto che lo saluto di questa donna lo quale era delle operazioni della bocca sua fu fine degli miei desideri mentre ch'io lo potei ricevere poscia quando dico canzone io so che nella quale dico quello che di questa mia canzone desidero è però che quest'ultima parte è lieve ad intendere non mi travaglio di più divisioni dico bene che a più aprire lo intendimento di questa canzone si converrebbe usare di più minute divisioni ma tuttavia chi non è di tanto ingegno che per queste che son fatte la possa intendere a me non dispiace se la mi lascia stare che certo divisioni che fatte sono se gli avvenisse che molti le potessero audire 20 appresso che questa canzone fu alquanto divulgata tra le genti conciò fosse cosa che alcuno amico lui disse volontade lo mosse a pregare me che io gli dovesse dire che è amore avendo forse per ludite parole speranza di me oltre che degna onde io pensando che appresso di cotale trattato bello era trattare alquanto d'amore e pensando che l'amico era da servire proposi di dire parole nelle quali io trattassi d'amore e allora dissi questo sonetto lo quale comincia amore e cor gentil amore e cor gentil sono una cosa sì come il saggio in suo ditare pone e così esser l'un senza l'altro osa con l'alma razional senza amorosa amor per sire e cor per sua magione dentro la quale dormendo si riposa talvolta poca e tallunga stagione biotate appare in saggia donna pui che piace agli occhi sì che dentro al core nasce un desio della cosa piacente e tanto dura talora in costui che far svegliare lo spirito d'amore e simil facce in donna omo valente questo dico di lui in quanto è in potenzia nella seconda dico di lui in quanto di potenzia si riduce in atto la seconda comincia qui vi biotate appare la prima si divide in due nella prima dico in che soggetto sia questa potenzia nella seconda dico siccome questo soggetto e questa potenzia siano prodotti in essere e come l'uno guarda l'altro come forma materia la seconda comincia qui vi biotate appare dico come questa potenzia si riduce in atto e prima come si riduce in uomo poi come si riduce in donna quindi è simil faccia in donna fine della quarta sezione quinta sezione della vita nuova di Dante Alighieri questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio quinta sezione da capitolo ventuno al capitolo ventitré ventuno poscia che trattai d'amore nella sopra scritta rima venne mi volontare di volere dire anche in lodo di questa gentilissima parole per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo amore e come non solamente si sveglia là dove dorme ma là dove non è in potenzia ella mirabilmente operando lo fa venire e allora dissi questo soneto lo quale comincia negli occhi porta negli occhi porta la mia donna amore perché si fa gentil ciò che la mira o vella passa o non ver le si gira e cui saluta fa tremare lo cuore sicché passando il viso tutto smore ed ogni suo difetto allor sospira fugge dinanzi a lei superbia ed ira aiutatemi donne farle onore ogni dolcezza ogni pensiero umile nasce nel cuore a chi parlarla sente onde è laudata chi prima la vive quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente si è nuovo miracolo e gentile questo soneto si ha tre parti nella prima dico siccome questa donna riduce questa potenzia nato secondo la nobelissima parte degli suoi occhi e nella terza dico questo medesimo della sua bocca e tra queste due parti è una particella che quasi domandatrice d'aiuto alla precedente parte e dalla sequente e comincia quivi aiutatemi donne la terza comincia quivi ogni dolcezza la prima si divide in tre nella prima parte dico siccome virtuosamente fai gentile tutto ciò che vede e questo è tanto a dire quanto inducere amore in potenzia là ove non è nella seconda dico come riduce un atto amore negli cuori di tutti coloro cui vede nella terza dico quello che poi virtuosamente adopera nei loro cuori la seconda comincia quivi ove la passa la terza quivi e cui saluta poscia quando dico aiutatemi donne do a intendere a cui la mia intenzione è di parlare chiamando le donne che mi aiutino onorare costei poscia quando dico ogni dolcezza dico quello medesimo che detto è nella prima parte secondo due atti della sua bocca l'uno degli quali è lo suo dolcissimo parlare e l'altro lo suo mirabile riso salvo che non dico in questo ultimo come ad opera negli cuori altrui però che la memoria non può ritenere lui né sua operazione ventidue appresso ciò non molti dì passati sì come piacque al glorioso sire lo quale non negò la morte a sé colui che era stato genitore di tanta maraviglia quante si vedea che era questa nobilissima Beatrice di questa vita uscendo alla gloria eternale se ne ciò sia cosa che cotale partire sia doloroso a coloro che rimangono e sono stati amici di colui che se ne va e nulla sia si intima amistade come da buon padre a buon figliolo e da buon figliolo a buon padre e questa donna fosse in altissimo grado di bontade e lo suo padre siccome da molti si crede e vero è fosse buono in alto grado manifesto è che questa donna fu amarissimamente piena di dolore e conciossi cose che secondo l'usanza della sopradetta città donne con donne e uomini con uomini s'adunino a cotale tristizia molte donne s'adunaro con la dove questa Beatrice piangea pietosamente onde io vedendo ritornare alcune donne da lei udì udì dicere loro parole di questa gentilissima come ella si lamentava tra le quali parole udì che diceano certo ella piange sì che quale la mia rasse dovrebbero morire di pietade allora trapassaro queste donne e io rimasi in tanta tristizia che alcuna lagrima talora bagnava la mia faccia onde io mi ricopria comporre le mani spesso agli miei occhi e se non fosse chi io attendee a dire anche di lei però che io era un luogo onde se neggiano la maggior parte di quelle donne che da lei si partiano io mi sarei nascoso incontenente che le lagrime mi avveno assalito e però dimorando ancora nel medesimo luogo donne anche passaro presso di me le quali andavano ragionando tra loro queste parole chi dei mai essere liete di noi che avemo udita parlare questa donna così pietosamente appresso costoro passaro altre donne che veniano dicendo questi che qui piange né più né meno come se l'avesse veduta come noi avemo altre di poi dicevano di me vedi questi che non pare esso tale divenuto e così passando queste donne udio parole di lei e di me in questo modo che detto è onde io poi pensando propusi di dire parole a ciò che degnamente avea cagione di dire nelle quali parole io conchiudesse tutto ciò che inteso avea da queste donne e però che volentieri l'avrei domandata se non mi fosse stata riprensione presi tanta materia di dire come se io l'avesse domandata ed le mi avessero risposto e feci due sonetti che no primo domando in quello modo che voglia mi giunse di domandare non l'altro dico la loro risponsione pigliando ciò che io odio da loro siccome lo mi avessero detto rispondendo e comincia lo primo voi che portate la sembianza umile e l'altro sei tu colui che hai trattato sovente voi che portate la sembianza umile con gli occhi bassi mostrando dolore onde venite che il vostro colore par divenuto di pietà simile vedeste voi nostra donna gentile bagnare nel viso suo di pianto amore ditelmi donne che mi dice il cuore perchè io vi vegio andar sanzato vile e se venite da tanta pietate piaccia vi di restare qui mecco alquanto e quale che sia di lei non mi celate io vegio gli occhi vostri che hanno pianto e vegio vi tornar si sfigurate in due parti nella prima chiamo e domande queste donne se venino da lei dicendo loro che io lo credo però che torno quasi gentilite nella seconda le prego che mi dicano di lei la seconda comincia qui vi e se venite qui presso è l'altro sonetto siccome dinanzi avemo narrato sei tu colui ch'hai trattato sovente di nostra donna solparlando a noi tu risomigli alla voce ben lui ma la figura ne par d'altra gente e perché piangi tu sicuramente che fai di te pietà venire al brui vedest tu pianger lei che tu non puoi punto celarla dolorosamente lascia piangere a noi e triste andare e fa peccato chi mai ne conforta che nel suo pianto l'udimo parlare e là nel viso la pietà si scorta che qual l'avesse voluta mirare sarebbe innanzi lei piangendo morta questo sonetto ha quattro parti secondo che quattro modi di parlare ebbero loro le donne per cui rispondo e però che sono di sopra sai manifesti non mi trametto di narrare la sentenza delle parti e però le distinguo solamente la seconda comincia quivi e perché piangi la terza lascia e l'ha nel viso appresso ciò per pochi dì avenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade onde io continuamente soffersi per nove dì amarissima pena la quale mi condusse a tanta debolezza che mi convenia stare come coloro li quali non si possono muovere io dico che nello nono giorno sentendo me doler quasi intollerabilmente a me giunse uno pensiero lo quale era della mia donna e quando ei pensato alquanto di lei ed io ritornai pensando alla mia debilitata vita e veggendo come leggero era lo sudurare ancora che sana fosse si cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria onde sospirando forte dicea fra me medesimo di necessitade convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia e però mi giunse uno si forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare sì come farnetica persona ed a immaginare in questo modo che nello incominciamento dello errare che fece la mia fantasia apparvero a me certi visi di donne scapiliate che mi diceano tu pur murrai e poi dopo queste donne apparvero certi visi diversi e orribili a vedere li quali mi diceano tu sei morto così quello che io non sapea ove io mi fosse e vedere mi pare a donne andare scapiliate piangendo per via maravigliosamente triste e pare mi vedere lo sole oscurare sì che le stelle si mostravano di colore che le mi facceano giudicare che piangessero e pare mi che gli uccelli volando per l'aria cadessero morti e che fossero grandissimi terramuoti or non sai la tua mirabile donna è partita di questo secolo allora cominciai a piangere molto pietosamente e non solamente piangea nell'immaginazione ma piangea con gli occhi bagnandoli di vere lagrime io immaginava di guardare verso lo cielo e pare mi vedere moltitudine d'angeli li quali tornassero in suso ed aveano dinanzi da loro una nebuletta bianchissima a me parea che questi angeli cantassero gloriosamente e le parole del loro canto mi parea udire che fossero queste osane neccelsis er'altro non mi parea udire allora mi parea che lo cuore ovvero tanto amore mi dicesse vero è che morta giace la nostra donna e per questo mi parea andare per vedere lo corpo nello quale era stata quella nobilissima e beata anima e fu si forte la erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta e pareami che donne la covrissero cioè la sua testa con uno bianco velo e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umiltà che parea che dicesse io sono a vedere lo principio della pace in questa immaginazione mi giunse tanto militare per vedere lei che io chiamava la morte e dicea dolcissima morte vieni a me e non m'essere vilana però che tu devi essere gentile in tal parte sei stata or vieni a me che molto ti desidero e tu lo vedi ch'io porta giallo tuo colore e quando io avea veduto compiere tutti gli dolorosi mestieri che le corpora degli morti s'usano di fare mi parea tornare nella cominciai a dire con verace voce oi anima bellissima come beato colui che ti vede e dicendo io queste parole con doloroso singotto di pianto e chiamando la morte che venisse a me una donna giovane e gentile la quale era lungo lo mio letto credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia infermitade con grande paura cominciò a piangere onde altre donne che per la camera erano soccorsero di me che io piangea per lo pianto che vedeano fare a questa onde facendo lei partire da me la quale era mecco di propinquissima sanguinità decongiunta e le si trassero verso me per risvegliarmi credendo che io sognasse e diceanmi non dormire più e non ti sconfortare e parlandomi così si mi cessò la forte fantasia entro in quello punto che io voleia dicere o Beatrice benedetta sia tu e già detto avea o Beatrice quando riscoltendomi ha persi gli occhi e vidi che io era ingannato e con tutto che io chiamasse questo nome la mia voce era si rotta dal singuto del piangere che queste donne non mi potero intendere secondo mio parere e avvenia che io vergognasse molto tuttavia per alcuno ammonimento d'amore vi rivolsi a loro e quando mi videro cominciaro a dire questi pare morto e a dire tra loro procuriamo di confortarlo onde molte parole mi dicevano da confortarmi e talora mi domandavano di che io avesse avuto paura onde io essendo alquanto riconfortato e conosciuto lo fallace immaginare rispuosi a loro io vi dirò quello che io ho avuto allora cominciandomi dal principio e fino alla fine dissi loro quello che veduto avea tacendo lo nome di questa gentilissima onde poi sanato di questa mia infermitare proposi di dire parole di questo che mi era divenuto però che mi parea che fosse amorosa cosa da udire e però ne dissi questa canzone donna pietosa e di novella etate ordinata sì come manifesta la infrascritta divisione donna pietosa e di novella etate adorna assai di gentilezze umane che era là vio chiamava spesso morte veggendo gli occhi miei pien di pietate e ascoltando le parole vane si mosse con paura a pianger forte e altre donne che si fuoro accorte di me per quella che mecco piangia fecer lei partir via e appressarsi per farmi sentire quodicea non dormire e quodicea perché si ti sconforte allora lassai la nuova fantasia chiamando il nome della donna mia era la voce mia si dolorosa e rotta si dall'angoscia del pianto ch'io solo intesi il nome nel mio cuore e con tutta la vista vergognosa ch'era nel viso mio giunta col tanto mi fece verso lor volgere amore e lì era tale a vedermi il colore che facea ragionare di morte a brui de consoliam costui pregava l'una all'altra umilemente e dicevan sovente che vedest tu che tu non hai valore e quando un poco confortato fui io dissi donne dicerolo a voi mentre io pensava la mia frale vita e vedeo sud durar come leggero pianse mia morno core ove dimora perché l'anima mia fu si smarrita che sospirando diceano pensiero ben converrà che la mia donna mora io presi tanto smarrimento allora che io chiusi gli occhi vilmente gravati e furan si smagati gli spiriti miei che ciascun giva errando e poscia immaginando di conoscenza e di verità fora visi di donne mia parver cruciati che mi dicean pur morati morati poi vidi cose dubitose molte non vanno immaginare ovvio entrai ed essermi parea non so in qual loco e veder donne andar per via disciolte qual lagrimando e qual traendo guai che di tristizia saietavan foco poi mi parve vedere a poco a poco turbar lo sole e apparir la stella e piangere li ed tramare ed omo apparve scolorito e fiocco dicendomi che fai non sai novella morta è la donna tua che era si bela lavava gli occhi miei bagnati impianti e vedea che parean pioggia di mana gli angeli che tornavan suso in cielo ed una nuvoletta avean davanti dopo la qual gridavan tutti osana e s'altro avessero detto a voi direlo allora nostra donna che giace lo immaginar falace mi condusse a veder madonna morta e quando io l'avea scorta vedea che donne lo covriano d'un velo ed avea secco umiltà verace che parea che dicesse io sono in pace io divenia nel dolore si umile vedendo in lei tanta umiltà formata che io dicea morte assai dolce ti tegno tu sei nella mia donna stata e dei aver pietata in un disdegno vedi che si desideroso venio d'essere dei tuoi che io ti somiglio in fede vieni che il corte chiede poi mi partia consumato ogni duolo e quando io era solo dicea guardando verso l'alto regno beato anima bella chi ti vede voi mi chiamaste allora vostra mercede questa canzone a due parti nella prima dico parlando a indifinita persona come io fui levato d'una vana fantasia da certe donne e come promisi loro di dirla nella seconda dico come io dissi a loro la seconda comincia quivi mentre io pensava la prima parte si divide in due nella prima dico quello che certe donne e che una sola dissero e fecero per la mia fantasia dico quello che queste donne mi dissero poiché io lasciai questo farneticare e comincia questa parte quivi era la voce mia poscia quando dico mentre io pensava dico come io dissi loro questa mia immaginazione ed intorno a ciò foi due parti nella prima dico per ordine questa immaginazione nella seconda dicendo a che ora mi chiamaro le ringrazio chiusamente e comincia qui di questa parte voi mi chiamaste fine della quinta sezione sesta sezione della vita nuova di dante al agghieri dal capitolo ventiquattro al capitolo ventisette questa registrazione LibriVox e di pubblico dominio ventiquattro appresso questa vana immaginazione avvenne uno die che sedendo io pensoso in alcuna parte ed io mi sentio cominciare un tremuoto nel cuore così come se io fosse stato presente a questa donna allora dico che mi giunse un'immaginazione d'amore che mi parve vederlo venire da quella parte dove la mia donna stava e pare mi che lietamente mi dicesse nel cuore mio pensi di benedicere lo di che io ti presi però che tu lo devi fare e certo mi pare avere lo cuore si lieto che me non pare che fosse lo mio cuore per la sua nuova condizione e poco dopo queste parole che lo cuore mi disse con la lingua d'amore io vi di venire verso me una gentile donna la quale era di famosa bieltade e fu già molto donna di questo primo mio amico e lo nome di questa donna era giovanna salvo che per la sua bieltade secondo che altri crede imposto l'era nome primavera e così era chiamata e presso lei guardando vi divenire l'amirabile beatrice queste donne andarono presso di me così l'una presso l'altra e parve che amore mi parlasse nel cuore e dicesse quella prima è nominata primavera solo per questa venuta d'oggi che io mossi lo imponitore dal nome a chiamarla così primavera cioè primavera lo die che beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo fedele e se anche voli considerare lo primo nome suo tanto è quanto dire primavera però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo ed anche mi parve che mi dicesse dopo queste parole e chi volesse sottilmente considerare quella beatrice chiamerebbe amore per molta similianza che ameco onde io poi ripensando proposi di scrivere per rima allo mio primo amico tacendomi certe parole le quali pareano da tacere credendo io che ancora lo suo cuore mirasse l'abilitare di questa primavera gentile e dissi questo soneto lo quale comincia io mi sentì svegliar io mi sentì svegliar dentro allo core un spirito amoroso che dormia e poi vidi venir da lungi amore allegro sì che appena il conoscia dicendo or pensa pur di farmi onore e ciascuna parola sua ridia e poco stando me co il mio signore guardando in quella parte monna vanna e monna bice venire in verlo loco la ovio era l'una appresso dall'altra maraviglia e siccome la mente mi ridice amor mi disse quell'è primavera e quella nome amor sì mi somiglia questo sonetto a molte parti la prima delle quali dice come io mi sentì svegliare lo tremore usato nel cuore e come parve che amore mi apparisse allegro nel mio cuore da la terza dice come poiché questi fu alquanto stato me co cotale io vidi e udio certe cose la seconda parte comincia quivi dicendo or pensa la terza quivi e poco stando la terza parte si divide in due nella prima dico quello che io vidi nella seconda dico quello che io udio la seconda comincia quivi amor mi disse venticinque potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle o ne dubitazione e dubitare potrebbe di ciò che io dico d'amore come se fosse una cosa per sé e non solamente sostanza intelligente ma sì come fosse sostanza corporale la quale cosa secondo la verità è falsa che amore non è per sé sì come sostanza ma è uno accidente in sostanza e che io dica di lui come se fosse corpo ancora sì come se fosse uomo appare per tre cose che dico di lui dico che lo vedi venire onde conciò sia cosa che venire dica molto locale e localmente immobile per sé secondo lo filosofo sia solamente corpo appare che io ponga amore essere corpo dico anche di lui che eridea e anche che parlava le quali cose paiono essere proprie dell'uomo e specialmente essere risibile e però appare chi opponga lui essere uomo a cotale cosa dichiarare secondo che è buono al presente prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare anzi erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina tra noi dico avvenia forse che tra altra gente advenisse e advenia ancora siccome in grecia non volgari ma literati poete queste cose trattavano e non è molto numero d'anni passati che apparirò prima questi poete volgari che dire per rima in vogare tanto è quanto dire per versi in latino secondo alcuna proporzione è segno che sia piccolo tempo e che se volemmo cercare in lingua d'occo e in quella di si noi non troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni è la cagione perché o quanti grossi ebbero fama di sapere dire e che quasi fuori i primi che dissero in lingua di sì e lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna alla quale era malegevole di intendere i versi latini e questo è contra coloro che rimano sopra altra materia che amorosa conciò sia cosa che con tale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore onde conciò sia cosa che agli poete sia conceduta maggiore licenza di parlare che agli prosaici dittatori e questi dittatori per rima non siano altro che poete volgari degno e ragionevole e che a loro sia maggiore licenza l'argita di parlare che agli altri parlatori volgari onde se alcuna figura o colore retorico è conceduto agli poete conceduto è agli rimatori dunque se noi vediamo che gli poete hanno parlato alle cose inanimate sì come se avessero senso e ragione e fatele parlare insieme e non solamente cose vere ma cose non vere cioè che detto hanno di cose le quali non sono che parlano e detto che molti accidenti parlano sì come se fossero sostanzie ed uomini degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante ma non senza ragione alcuna ma con ragione la quale poi sia possibile d'aprire per prosa che li poete abbiano così parlato come detto è appare per Virgilio lo quale dice che iuno cioè una dea nemica degli troiani parlòe ad eolo signore degli venti quivino primo dello enneida eole nam que tibi e che questo signore le rispose quivi tus o regina quid optes esplorare labor mihi iussa capessere fas est per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata alle cose animate nel terzo dello enneida quivi dardanide duri per lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata quivi mutum roma tamen debis civilibus armis per orrazio parla l'uomo alla sua scienzia medesima siccome è l'altra persona e non solamente sono parole d'orrazio ma dicele quasi recitando lo modo del buono omero quivi nella sua poetria dic mihi musa virum per ovidio parla amore siccome se fosse persona umana nello principio dello libro ca nome libro di remedio d'amore quivi bella mihi video bella parantur ait e per questo potei essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio livello e a ciò che non ne pigli alcuna baldanza persona grossa dico che né li poete parlavano così senza ragione né quelli che rimano deano parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore retorico e poscia domandato non sapesse denudare le sue parole d'accotale vesta in guisa che avessero verace intendimento e questo mio primo amico e io ne sappiamo bene di quelli che così rimano stoltamente ventisei questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correano per vedere lei onde mirabile Letizia me ne giungea e quando ella fosse preso d'alcuno tanto onestate giungeano il cuore di quello che non ardìa di lavare gli occhi né di rispondere allo suo saluto e di questo molti siccome esperti mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse ella coronata e vestita d'umiltade sandava nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e odia diceano molti poiché passata era questa non è femmina anzi è uno degli bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una maraviglia che benedetto sia lo signore che si mirabile mente sai adoperare io dico che ella si mostrava si gentile e si piena di tutti i piaceri che quelli che l'ammiravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto che ridicere non lo sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che nel principio non convenisse sospirare queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò volendo ripigliare lo stilo della sua loda proposi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere dalle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la poten sensibilmente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere allora dissi questo sonetto lo quale comincia tanto gentile tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta con ogni lingua deve intramando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo intera a miracolo mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova e par che della sua labia si muova un spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira questo sonetto è sì piano ad intendere per quello che è narrato ed inanzi che non ha bisogno ad alcuna divisione e però lassando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erano onorate e laudate molte un dio leggendo ciò e volendo manifestare a chi non vedea propuosi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vede perfettamente ogni salute lo quale narra di lei come la sua virtù adoperava nell'altre sì come appare nella sua divisione vede perfettamente ogni salute chi la mia donna tra le donne vede quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a Dio render mercede e sua bealtate e di tanta virtù che nulla invidia all'altre ne procede anzi le faccia andar secco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa ogni cosa umile e non fa sola sé parer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun ma si può recar la mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto ha tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico siccome era graziosa la sua compagnia nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operavano altrui la seconda parte comincia quivi quelle che vanno la terza quivi e sua biotate questa ultima parte si divide in tre nella prima dico quello che operava nelle donne cioè per loro medesime nella seconda dico quello che operava in loro per altrui nella terza dico come non solamente nelle donne ma in tutte le persone e non solamente nella sua presenza ma ricordandosi di lei mirabilmente operava la seconda comincia quivi la vista sua e la terza quivi ed è negli atti 27 appresso ciò cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto avea della mia donna cioè in questi due sonetti precedenti e leggendo nel mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo ad operava in me paremi defettivamente avere parlato e però propuosi di dire parole nelle quali io dicessi come me parea essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua virtude e non credendo potere ciò narrare in brevità di sonetto cominciai allora una canzone la quale comincia sì lungiamente sì lungiamente m'ha tenuto amore e costumato alla sua signoria che sì come lì mera forte e impria così mi sta soave ora nel cuore però quando mi tolle sì valore che gli spiriti par che fuggan via allora sente le fra l'anima mia tanta dolcezza che il viso ne smore poi prende amore in me tante vertute che fa li miei sospiri gir parlando ed escan fuor chiamando la donna mia per darmi più salute questo ma vene ovunque ella mi vede e sia cosa umil che non si crede fine della sesta sezione settima sezione della vita nuova di Dante Alighieri dal capitolo ventotto al capitolo trentatré questa registrazione di LibriVox e di pubblico dominio ventotto comodo sedet sola civitas plena populo facta est quasi vidua domina gentium io era nel proponimento ancora di questa canzone e compiutene avea quasi soprascritta stanzia quando lo Signore della Giustizia chiamò questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella Regina Benedetta Virgo Maria lo cui nome fue in grandissima reverenzia nelle parole di questa Beatrice Beata è avvenio che forse piacerebbe a presente trattare alquanto della sua partita da noi non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni la prima è che ciò non è del presente proposito se volemmo guardare nel proemio che precede questo libello la seconda si è che posto che fosse del presente proposito ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò la terza si è che posto che fosse l'uno e l'altro non è convenevole a me trattare di ciò per quello che trattando converrebbe essere me laudatore di me medesimo la quale cosa è appostutto biasimevole a chi lo fai e però lascio cotale trattato ad un altro chiosatore tuttavia però che molte volte lo numero del nove ha preso luogo tra le parole di nazi onde pare che sia non senza ragione e nella sua partita cotale numero pare che avesse molto luogo convene si di dire quindi alcuna cosa a ciò che pare a proposito convenirsi onde prima dicerò come ebbe luogo nella sua partita e poi ne segnerò alcuna ragione perché questo numero fu a lei cotanto amico 29 io dico che secondo l'usanza d'arabbia l'anima sua nobilissima si partìo nella prima ora del nonno giorno del mese e secondo l'usanza di Siria ella si partìo nel nonno mese dell'anno però che lo primo mese è ivi tirisi in primo lo quale a noi è ottobre e secondo l'usanza nostra ella si dominì in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto in quello centinaio nel quale in questo modo ella fue posta ed ella fue degli cristiani del terzo decimo centinaio perché questo numero fosse intanto amico di lei questa potrebbe essere una ragione conciossia cosa che secondo tolomeo e secondo la cristiana veritare nove siano gli cieli che si muovono e secondo comune opinione la loro abitudine insieme questo numero fue amico di lei per dare ed intendere nella sua generazione tutti e nove gli mobili cieli perfettissimamente se veiano insieme questa è una ragione di ciò ma più sottilmente pensando e secondo la infallabile veritare questo numero fue la medesima per similitudine dico e ciò intendo così lo numero del tre è la radice del nove però che senza numero altro alcuno per sé medesimo fa nove siccome vedemo manifestamente che tre via tre fa nove dunque se lo tre fattore per sé medesimo del nove e lo fattore per sé medesimo degli miracoli e tre cioè padre e figlio e spirito santo li quali sono tre e uno questa donna fue accompagnata da questo numero del nove a dare ad intendere che era uno nove cioè uno miracolo la cui radice cioè del miracolo è solamente l'amirabile trinitade forse ancora per più sottile persona si vederebbe in ciò più sottile ragione ma questa è quella che io ne vegio e che più mi piace poiché fu partita da questo secolo rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova dispogliata da ogni dignitare onde io ancora lagrimando in questa desolata cittade scrissi agli principi della terra alquanto della sua condizione pigliando quello comincimento di geramia profetta che dice e questo dico a ciò che altri non si maravigli perché io l'abbia allagato di sopra quasi come entrata della nuova materia che appresso vene e se alcuno volesse me riprendere di ciò che io non scrivo quelle parole che seguitano a quelle allegate scusomene però che l'intendimento mio non fu dal principio di scrivere altro che per vogare onde conciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate siano tutte latine sarebbe fuori dal mio intendimento se le scrivessi e simile intenzione so che ebbe questo mio primo amico a cui io ciò scrivo cioè che io li scrivessi solamente vogare trentuno poiché i miei occhi ebbero però quanto tempo lagrimato e tanto affaticati erano che non poteano disfogare la mia tristizia pensai di volere disfogarla con alcune parole dolorose e però proposi di fare una canzone nella quale piangendo ragionassi di lei per cui tanto dolore era fatto distruggitore dall'anima mia e cominciai allora una canzone la quale comincia d'occuore e acciò che questa canzone paia rimanere più verva dopo lo suo fine la dividerò prima che io la scriva e cotale modo terrò da qui innanzi io dico che questa cattivella canzone ha tre parti la prima è proemio nella seconda ragiono di lei nella terza parlo alla canzone pietosamente la seconda parte comincia quivi la terza quivi pietosa mia canzone la prima parte si divide in tre nella prima dico perché io mi muovo a dire nella seconda dico a cui io voglio dire nella terza dico di cui io voglio dire la seconda comincia quivi e perché me ricorda la terza quivi e dicerò poscia quando dico ita ne beatrice ragiono di lei e intorno a ciò foe due parti prima dico la cagione perché toltene fue appresso dico come altri si piange della sua partita e comincia questa parte quivi partissi della sua questa parte si divide in tre nella prima dico chi non la piange nella seconda dico chi la piange nella terza dico della mia condizione la seconda comincia quivi ma ventre stizia e voglia la terza quivi danno mia angoscia poscia quando dico pietosa mia canzone parlo a questa canzone disegnandole a quali donne se ne vada e steasi con loro gli occhi dolenti per pietà dal core hanno di lagrimar sofferta pena sì che per vinti son remasi o mai ora si voglio sfogarlo dolore che a poco a poco alla morte mi mena convene mi parlare traendo guai e perché mi ricorda che io parlai della mia donna mentre che vivia donne gentili volentieri con voi non voi parlare altrui se non a cor gentil che in donna sia e dicerò di lei piangendo pui che si negita in ciel subitamente e ha lasciato amor me cotolente ita né beatrice in alto cielo non reame ove gli angeli hanno pace e sta con loro e voi donne alassate non la citose qualità di gelo né di colore come l'altre facce ma solo fu e sua gran benignitate che luce della sua umiltate passò li cieli con tanta vertute che fe maravigliar l'eterno sire sì che dolce desire lo giunse di chiamar tanta salute e felle di qua giù a sé venire perché vedea che sta vita noiosa non era degna di sì gentil cosa partissi dalla sua bella persona piena di grazia l'anima gentile ed essi gloriosa un loco degno chi non la piange quando ne ragiona corea di pietra sì malvagio e vile cantrar noi puote spirito benegno non è di cordilanzi alto ingegno che possa immaginar di lei alquanto e però non li ven di pianger d'oglia ma ven tristizia e voglia di sospirare e di morir di pianto e donne consolare l'anima spoglia chi vede nel pensiero alcuna volta quale ella fue e come ella ne tolta danno mi angoscia li sospiri forte quando il pensiero nella mente grave mi recca quella che m'ha ancora diviso e spesse fiate pensando alla morte venemene un disio tanto soave che mi tramuta lo color nel viso e quando l'immaginar mi ven ben fiso giugniamo tanta pena d'ogni parte che io mi riscuoto per dolor che sento e si fatto divento che dalle genti vergogna mi parte poscia piangendo sono mio lamento chiamo Beatrice e dico or sei tu morta e mentre ch'io la chiamo mi conforta piangere di dolia e sospirare d'angoscia mi strugge il cor ovunque sol mi trovo sì che non crescerebbe a chi maldesse e quale è stata la mia vita poscia che la mia donna andò nel secco nuovo lingue non è che dicer lo sapesse e però donne mie purch'io volesse non vi saprei io dir ben quel ch'io sono si mi fa travagliar la cerba vita la quale è sinvilita che ogni om par che mi dica io te abbandono vedendo la mia labia tramortita ma qual ch'io sia la mia donna il si vede ed io ne spero ancor dalle mercede pietosa mia sorelle erano usate di portare letizia e tu che sei figliola di tristizia vatten disconsolata a star con elle poiché detta fu questa canzone si venne a me uno lo quale secondo li gradi dell'amistade e amico a me immediatamente dopo lo primo e questi fu tanto distretto di sanguitare con questa gloriosa che nullo più preso l'era e poiché fu mecco a ragionare mi pregoe ch'io gli dovesse dire alcuna cosa per una donna che era morta e simulava sue parole a ciò che paresse che dicesse d'un'altra la quale morta era certamente onde io accorgendomi che questi dicea solamente per questa benedetta si gli dissi di fare ciò che mi domandava lo suo prego onde poi pensando a ciò propose di fare uno sonetto nel quale mi lamentasse alquanto e di darlo a questo mio amico a ciò che paresse che per lui l'avessi fatto e dissi allora questo sonetto che comincia venite a intender gli sospiri miei lo quale ha due parti nella prima chiamo gli fedeli d'amore che mi intendono nella seconda narro della mia misera condizione la seconda comincia qui venite a intender gli sospiri miei oi cor gentili che pietà odisia li quai disconsolati vanno via e se non fosser di dolor morrei però che gli occhi mi sarebber rei molte fiate più ch'io non vorria la so di piangersi la donna mia che sfogasser lo cor piangendo lei voi direte lor chiamar sovente la mia donna gentil che si negita al secco degno delle sue vertute e dispregiartelora questa vita in persona dall'anima dolente abbandonata della sua salute 33 poiché detto ehi questo sonetto pensandomi chi questi era a cui lo intende dare quasi come per lui fatto vidi che povero mi pare lo servigio e nudo a così distretta persona di questa gloriosa e però anzich'io li dessi questo soprascritto sonetto si dissi due stanzie ed una canzone l'una per costui veraciamente e l'altra per me avenia che paia l'una e l'altra per una persona detta a chi non guarda sottilmente ma chi sottilmente le mira vede bene che diverse persone parlano a ciò che l'una non chiama sua don coste e l'altra si come appare manifestamente questa canzone e questo soprascritto sonetto li diedi dicendo io lui che per lui solo ho fatto la vea la canzone comincia quantuque volte e a due parti nell'una cioè nella prima stanzia si lamenta questo mio caro distretto a lei nella seconda mi lamento io cioè nell'altra stanzia si comincia e si raccoglie negli miei e così appare che in questa canzone si lamentano due persone l'una delle quali si lamenta come frate l'altra come servo quantunque volte la so mi rimembra ch'io non debo giammai veder la donna on Dio fossi dolente tanto dolore intorno cor mi assembra la dolorosa dico anima mia che non ten vai che li tormenti che tu porterai nel secco che te già tanto noio mi fan pensoso di paura forte on Dio chiamo la morte come soave e dolce mio riposo e dico vieni a me con tanto amore che sono astioso di chiunque more e si raccoglie negli miei sospiri un sonno di pietate che va chiamando morte tuttavia a lei si volser tutti i miei disiri quando la donna mia fu giunta della sua crudalitate perché il piacere della sua biotate partendo sé dalla nostra veduta divenne spiritual bellezza grande che per lo cielo spande luce d'amor che gli angeli saluta e lo intelletto loro alto sottile faccia maravigliar si ve gentile fine della settima sezione ottava sezione della vita nuova di Dante Elighieri questa registrazione LibriVox e di pubblico dominio dal capitolo trentaquattro al capitolo trentanove trentaquattro in quello giorno nel quale si compiea l'anno che questa donna era fatta degli cittadini di vita eterna io mi sedea in parte nella quale ricordandomi di lei disegnava uno angelo sopra certe tavolette e mentre io lo disegnava volsi gli occhi e vidi lungo me uomini agli quali si convenia di fare onore e riguardavano quello che io facea e erano stati già quanto anzi che io me ne accorgesse quando li vidi mi lavai e salutando loro dissi altri era testemecco però pensava onde partiti costoro ritornai mi alla mia opera cioè del disegnare figure d'angeli e facendo ciò mi venne uno pensiero di dire parole quasi per anno vale e scrivere a costoro li quali erano venuti a me e dissi allora questo sonetto lo quale comincia era venuta lo quale ha due cominciamenti e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro dico che secondo lo primo questo sonetto ha tre parti nella prima dico che questa donna era già nella mia memoria nella seconda dico quello che amore però mi facea nella terza dico degli affetti d'amore la seconda comincia quivi amor perché la terza quivi piangendo uscivano fuor questa parte si divide in due nell'una dico che tutti i miei sospiri uscivano parlando nella seconda dico che ho quanti diceano certe parole diverse dagli altri la seconda comincia quivi ma quei per questo medesimo modo si divide secondo l'altro cominciamento salvo che nella prima parte dico quando questa donna era così venuta nella mia memoria e ciò non dico nell'altro primo cominciamento era venuta nella mente mia la gentil donna che per suo valore fu posta dall'altissimo signore nel cielo dell'umitate ov'è maria secondo cominciamento era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore entro in quel punto che lo suo valore vi trasse riguardare quel che io facia amor che nella mente la sentia si era svegliato nel distrutto il cuore e diceva sospiri andate fuori perché ciascun dolente si partia piangendo uscivan fuori dello mio petto con una voce che sovente mena le lagrime dolose agli occhi tristi ma quei che nuscian fuori con maggior pena venian dicendo o nobile intelletto oggi fa l'anno che nel ciel poi però quanto tempo con ciò fosse cosa che io fosse in parte nella quale mi ricordava del passato tempo molto stava pensoso e con dolorosi pensamenti tanto che mi facevano parire defore una vista di terribile spigottimento onde io accorgendomi del mio travagliare levai gli occhi per vedere se altri mi vedesse allora vidi una gentile donna giovane e bella molto la quale da una finestra mi riguardava si pietosamente quanto alla vista che tutta la pietà parea in le accolta onde conciossi cosa che quando li miseri veggiano di loro compassione altrui piuttosto si muovono a lagrimare quasi come di se stessi avendo pietà io sentì allora cominciare i miei occhi a volere piangere e però temendo di non mostrare la mia vile vita mi partì dinanzi dagli occhi di questa gentile e dicea poi fra me medesimo e non pote essere che con quella pietosa donna non sia nobilissimo amore e però propuosi di dire uno sonetto nello quale io parlassi a lei e conchiudesse in esso tutto ciò che narrato è in questa ragione e però che questa ragione è assai manifesto si non lo dividerò lo sonetto comincia viderò gli occhi miei viderò gli occhi miei quanta pietate era parita in ma vostra figura quando guardaste gli ati e la statura che io faccia per dolor molte fiate allora ma corsi che voi pensavate la qualità della mia vita oscura sì che mi giunse nello cor paura di dimostrare con gli occhi mie viltate e tolsimi dinanzi a voi sentendo che si muoveano le lacrime dal core che era sommosso dalla vostra vista io dicea poscia nell'anima trista bene con quella donna quello amore lo qual mi faccia andare così piangendo 36 avvenne poi che là ovunque questa donna mi vedea si si facea d'una vista pietosa e d'un colore palido quasi come d'amore onde molte fiate mi ricordava della mia nobilissima donna che di simile colore si mostrava tuttavia e certo molte volte non potendo lagrimare né disfogare la mia tristizia io andava per vedere questa pietosa donna la quale parea che tirasse le lagrime fuori dei miei occhi per la sua vista e però mi venne volontà di dire anche parole parlando a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia color d'amore ed è piano senza dividerlo per la sua precedente ragione color d'amore e di pietà sambianti non preser mai così mirabilmente viso di donna per veder sovente occhi gentili o dolorosi pianti come lo vostro qualora davanti vedetevi la mia labia dolente sì che per voi mi ven cosa la mente che io temo forte lo lo corsi schianti io non posso tener gli occhi distrutti che non riguardin voi spesse fiate per desiderio di pianger che li hanno e voi crescete sì lor volontate che della voglia si consuman tutti ma lagrimar dinanzi a voi non sanno trentasette io venni attanto per la vista di questa donna che i miei occhi si cominciarono a dilettare troppo di vederla onde molte volte me ne cruciava nel mio cuore ed avea me ne per vile assai onde più volte bestemmiava la vanità degli occhi miei e dicea loro nel mio pensiero or voi sollevate fare piangere chi vedea la vostra dolorosa condizione ed ora pare che vogliate dimenticarlo per questa donna che vi mira che non mira voi se non in quanto la pesa della gloriosa donna di cui piangere solette ma quanto potete fare che io la vi pur rimembrerò molto spesso maledetti occhi che mai se non dopo la morte non dovrebbero le vostre lagrime avere restate e quando così avea detto fra me medesimo alle mie occhi e gli sospiri mi assalivano grandissimi angosciosi e aciò che questa battaglia che io avea meco non rimanesse saputa pur dal misero che la sentia proposi di fare un sonetto e di comprendere in l'anello questa orribile condizione e dissi questo sonetto lo quale comincia l'amaro lagrimar e da due parti nella medesimo nella seconda rimuovo alcuna dubitazione manifestando chi è che così parla e comincia questa parte quivi così dice potrebbe bene ancora ricevere più divisioni ma seriano in darno però che manifesto per la precedente ragione l'amaro lagrimar che voi faceste oi occhi miei così lunga stagione facea lagrimar le altre persone della pietate come voi vedeste ora mi par che voi l'obbliereste se io fosse dal mio lato sifelone chi non ven disturbasse ogni cagione membrandovi con lei cui voi piangeste la vostra vanità mi fa pensare e spaventami sì che io temo forte dal viso d'una donna che vi mira voi non dovreste mai se non per morte la vostra donna che è morta obbliare così dice al l'ha vista di quella donna in sì nuova condizione che molte volte ne pensava sì come di persona che troppo mi piacesse e pensava di lei così questa è una donna gentile bella giovane e savia e apparita forse per volontare d'amore a ciò che la mia vita si riposi e molte volte pensava più amorosamente tanto che lo cuore consentiva a lui cioè no suo ragionare e quando io avea consentito ciò e io mi ripensava sì come dalla ragione mosso e dicea fra me medesimo Deo che pensero è questo che in così vile modo vuole consolare me e non mi lascia quasi altro pensare poi si rilevava un altro pensero e dicea a me or tu sei stato in tanta tribolazione perché non vuoli tu ritrarre te da tanta malitudine tu vedi che questo è un ospiramento d'amore che ne recca gli desiri d'amore dinanzi ed è mosso da così gentil parte come quella degli occhi della donna che tanto pietosa ci sei mostrata onde io avendo così più volte combattuto in me medesimo ancora ne vuoli dire alquante parole è però che la battaglia dei pensieri viceano coloro che per lei parlavano mi pare che si convenisse di parlare a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia gentil pensero e dico gentile in quanto ragionava di gentile donna che per altro era bellissimo in questo sonetto fu due parti di me secondo che i miei pensieri erano divisi l'una parte chiamo cuore cioè l'appetito l'altra chiamo anima cioè la ragione e dico come l'uno dice con l'altro e che degno sia di chiamare l'appetito cuore e la ragione anima assai manifesto a coloro a cui mi piace che ciò sia aperto vero è che nel precedente sonetto io fo la parte dal cuore contro quella degli occhi e ciò pare contrario di quello che io dico nel presente e però dico che ivi lo cuore anche intendo per l'appetito però che maggiore desiderio era lo mio ancora di ricordarmi della gentilissima donna mia che di vedere costei avegne che alcuno appetito ne avessi già ma leggero parea onde appare che l'uno detto non è contrario cominciò a dire a questa donna come lo mio desiderio si volge tutto verso lei nella seconda dico come l'anima cioè la ragione dice al cuore cioè all'appetito nella terza dico come le risponde la seconda parte comincia quivi l'anima dice la terza quivi e le risponde gentil pensiero che parla di voi se invene a dimorare mecco sovente e ragiona d'amorsi dolcemente che faccia consentir lo cuore e lui l'anima dice al cuore chi è costui che venne a consolar la nostra mente ed è la sua virtù tanto possente ch'altro pensier non lascia star con lui e le risponde o' anima pensosa questi è uno spirito nuovo d'amore che recca inanzi me li suoi disiri e la sua vita e tutto suo valore mosse dagli occhi di quella pietosa che si turbava dei nostri martiri 39 contra questo avversario della ragione si levò un die quasi nell'ora della nonna una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa beatrice con quelle vestimenta sanguigne con le quali apparve prima i miei occhi e paremi giovane in simile età in quale io prima la vidi allora cominciai a pensare di lei e ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui civilmente si aveva lasciato possedere alcun di è contro la costanzia della ragione e discacciato questo col tale malvagio desiderio si si rivossero tutti i miei pensamenti alla loro gentilissima beatrice e dico che dolore annanzi cominciai a pensare di lei si con tutto lo vergognoso cuore che gli sospiri manifestavano ciò molte volte però che tutti quasi diciano nel loro uscire quello che nel cuore si ragionava cioè lo nome di quella gentilissima e come si partìo da noi e molte volte avvenia che tanto dolore avea in sé alcuno pensiero che io dimenticava lui e là dove io era per questo raccendimento dei sospiri si raccese lo solennato lagrimare in guisa che li miei occhi pareano due cose che desiderassero pur di piangere e spesso avvenia per lo lungo continuare dal pianto di turno loro si face uno colore purpureo lo quale suole apparire per alcuno martirio che altri riceva onde appare che dalla loro vanità furono degnamente guiderdonati sì che da loro annanzi non potero mirare persona che li guardasse sì che loro potesse trarre assimile intendimento onde io volendo che con tale desiderio malvagio e vana tentazione paresse distrutto sì che alcuno dubbio non potessero inducere verimate parole proposi di fare uno sonetto nello quale io comprendesse la sentenza di questa ragione e dissi allora lasso per forza di molti sospiri e dissi la so in quanto mi vergognava di ciò che li miei occhi aveano così vaneggiato questo sonetto non divido però che assai lo manifesta la sua ragione lasso per forza di molti sospiri che nascono dei pensieri che sono occorre gli occhi sono vinti e non hanno valore di riguardare persone che li miri e fatti son che paian due desiri di lagrimare e dimostrare dolore e spesse volte piangan si ch'amore l'incercchia di corona di martiri questi pensieri questi pensieri gli sospiri che ogito diventano nello cor si angosciosi che amor vi tramortisce si iene dole però che li hanno in lor li dolorosi qual dolce nome di madonna scritto e della morte sua molte parole fine dell'ottava sezione non sezione della vita nuova di dante laghieri questa registrazione librivox e di pubblico dominio dal capitolo 40 al capitolo 42 40 dopo questa tribolazione avvenne in quello tempo che molta gente va per vedere quella immagine benedetta la quale jesu cristo lasciò a noi per esempio della sua bellissima figura la quale vede la mia donna gloriosamente che alquanti peregrini passavano per una via la quale è quasi mezzo della città dove nacque vivete e morìo la gentilissima donna li quali peregrini andavano secondo che mi parve molto pensosi ondio pensando a loro dissi fra me medesimo questi peregrini mi paiono di parlare di questa donna e non ne sanno niente anzi li loro pensieri sono d'altre cose che di queste qui che forse pensano degli loro amici lontani li quali noi non conoscemo poi dicea fra me medesimo io so che se li fossero di propinco paese in alcuna vista parebbero turbati passando per lo mezzo della dolorosa città poi dicea fra me medesimo se io li potesse tenere alquanto io li pur farei piangere anzi che li uscissero di questo citare però che io direi parole le quali farebbero piangere chiunque le intendesse onde passati costoro dalla mia veduta propuosi di fare uno soneto nello quale io manifestasse ciò che io avea detto fra me medesimo e a ciò che più paresse pietoso proposi di dire come se io avesse parlato a loro e dissi questo soneto lo quale comincia de peregrini che pensosi andate e dissi peregrini secondo la larga significazione del vocabolo che peregrini si possono intendere in due modi in uno largo e in uno stretto in largo in quanto è peregrino chiunque è fuori dalla sua patria in modo stretto non si intende peregrino oriede e però è da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno a servizio dell'altissimo chiamanzi palmieri in quanto vanno oltre mare la onde molte volte reccono la palma chiamanzi peregrini in quanto vanno alla casa di galizia però che la sapoltura di sa jacopo fu più lontana dalla sua patria che d'alcuno altro non divido però che assai lo manifesta la sua ragione d' pergrini che pensosi andate forse di cosa che non ve presente venite voi da si lontana gente come alla vista voi ne dimostrate che non piangete quando voi passate per lo suo mezzo la città dolente come quelle persone che niente par che intendessere la sua gravitate se voi restaste per volerlo dire certo lo cor dei sospiri mi dice che lagrimando nuscireste poi e l'ha perduta la sua beatrice e le parole com di le può dire hanno vertù di far piangere altrui quarantuno puoi mandare due donne gentili a me pregando che io mandasse loro di queste mie parole rimate onde io pensando alla loro nobiltade proposi di mandare loro e di fare una cosa nuova la quale io mandasse a loro con esse a ciò che più onorevolemente adempiesse i loro prieghi e dissi allora uno sonetto lo quale narra del mio stato e mandalo a loro con lo precedente sonetto accompagnato e con un altro che comincia venite a intendere lo sonetto lo quale io feci allora comincia oltre la spera lo quale ha in sé cinque parti nella prima dico la dove va lo mio pensiero nominandolo per lo nome d'alcuno suo affetto nella seconda dico perché va là suso cioè chi lo fa così andare nella terza dico quello che vide cioè una don onorata la suso e chiamolo allora spirito peregrino a ciò che spiritualmente va la suso e siccome peregrino lo quale è fuori dalla sua patria vi stai nella quarta dico come elli la verità cioè in tale qualità che io non lo posso intendere cioè a dire che lo mio pensiero sale nella qualità di costei in grado che lo mio intelletto non lo può comprendere con ciò sia cosa che lo nostro intelletto sabbia quelle benedette anime sì come l'occhio debole allo sole e ciò dice lo filosofo nel secondo della metafisica nella quinta dico che avvenia che io non posso intendere là dove lo pensiero mi trai cioè alla sua mirabile qualità almeno intendo questo cioè che tutto è lo cotale pensare della mia donna però che io sento lo suo nome spesso non mio pensiero e nel fine di questa quinta parte dico donne mie la seconda parte comincia quivi intelligenza nova la terza quivi quando è giunto la quarta quivi vede la tal la quinta quivi so io che parla potrebbe si più sottilmente ancora dividere e più sottilmente fare intendere ma può si passare con questa divisa e però non mi trametto di più dividerlo oltre la spera che più larga gira passo sospiro che esce dal mio cuore intelligenza nova che l'amore piangendo mette in lui pur su lo tira quando è giunto là dove desira vede una donna che riceve onore e luce sì che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira vede la tal che quando mi ridice io non lo intendo si parla sottile al cordo lente che lo fa parlare so io che parla di quella gentile però che spesso ricorda Beatrice sì che io l'intendo ben donne mie care 42 appresso questo soneto apparve a me un'amirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei e di venire a ciò io studio quanto posso siccome la sai veracemente sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono che la mia vita duri però quanti anni io spero di dicere di lei quello che mai non fu detto d'alcuna e poi piaccia colui che è sire della cortesia che la mia anima se ne possa agire a vedere la gloria della sua donna cioè di quella benedetta beatrice la quale gloriosamente mira nella faccia di colui qui est per omnia seculo benedictus fine della nonna sezione fine della vita nuova di dante leghieri